Sì, la sedicesima edizione del contratto La Solicidine è una festa che tutti gli anni facciamo per fare insieme e soprattutto per ringraziare tutti coloro che nell'anno si sono contraddistinti e per attenzioni e per domizioni. La gestione associata tra le due strutture è nata nel 2007 e tuttora appena è stata provata tra l'altro la convenzione per il rinnovo per altri sei anni e oggi è l'occasione per trovarci una volta insieme e condividere con gli ospiti di tutte e due le strutture questo momento importante di solidarietà, di gioia con uno spettacolo offerto dall'Associazione Luminelli, già secondo anno, quindi questo concerto di questa band che rallegrerà più un rinfresco dell'elioritolazione che la nostra società corviglie fa. Solitamente premiamo quelli che maggiormente si sono distinti nell'anno, quest'anno per loro una sorpresa, premiamo i nostri ospiti che hanno partecipato al laboratorio di pittura e quindi avranno un riconoscimento ufficiale. Poi ci sarà una seconda puntina scherzosa per i due sindaci, nonché una targa per le nostre volontarie che sono insostituibili. Quindi è un momento di gioia, faremo molto in fretta perché oggi è una giornata molto piena, c'è anche il Presidente della Fondazione Carico quindi dobbiamo fare le cose in fretta ma questo momento glielo dobbiamo dedicare. E' sempre un momento piacente, negli altri anni si faceva tutta la giornata, anche il pranzo, adesso le nostre condizioni soprattutto ma anche le loro per vivere amici possibili di fare un'altra giornata, ma diventa lo stesso.